Buongiorno buongiorno players in viaggio Questa tratta su cosa? Per raccontarvi in realtà quello che è successo ieri perché abbiamo decretato il vincitore del main event di questo secondo evento della Season Isop Claudio Martin a salire sul gradino più alto del podio Poi naturalmente però non abbiamo premiato solo lui in concomitanza durante la giornata si sono anche svolti il Six Mark Championship vinto da Enrico Scalabrino e il Goodbye Championship il cui primo posto va a Roberto Prandino Io mi sbosto perché giustamente ci sono le Verso e Ciao Matte davanti a me Marco Petit o Leo Tomei e vediamo tutti quanti il momento al terzo evento dal 21 al 25 novembre Ciao Così e laaaaaa ah 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 ah